Applausi 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 Dopo facciamo 2 di foto Non mi piantavate Allora E' vero che noi abbiamo finito Paragliazzo si è uscito bene Mi sono ritrovata un'ultima canzone Per te vedo Pianca che mi guarda E ben insieme la sono scelta da sola Me la faccio anche dedicare Pianca Penso di stare tutti d'accordo a riascoltare Uno dei suoi cavalli di battaglia L'Ave Maria Applausi Applausi Dirige il maestro Giovanni Sette E per voi In Ave Maria Vincenone Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.